Grazie al coordinatore, grazie a Andrea Sandini e alla signora Angela per l'ospitalità di stasera e grazie a tutti voi per essere qui così numerosi a quest'ora di sera durante un giorno della settimana e grazie a chi ha parlato prima di me perché ormai ha letto tutto, quindi io posso dire poche cose. Devo dire che veramente io ci ho pensato a lungo prima di accettare la candidatura alla provincia. Ci ho pensato perché ritenevo che probabilmente non era proprio necessario una persona che stava al Parlamento per ritornare, per guidare la provincia e nonostante le sollecitazioni che ho avuto veramente da tutti gli esponenti del partito a Roma quella che veramente mi ha fatto cambiare idea è stato un incontro che ho fatto invece con il partito locale e Donino se lo ricorda una mattina in cui cominciai l'incontro dicendo credo proprio che non ce la faccia ad accettare, poi dopo di che finì chiamando mia moglie dicendo ho accettato. Ed è stato perché ho ritenuto che era molto importante come insieme partivamo per questa grande iniziativa, per questa grande lotta, per questa grande volontà di cambiare sostanzialmente la provincia. Io ho scritto sul mio programma Oltre la provincia perché io ritengo che oggi non abbiamo più bisogno di quella che si chiama un'innovazione incrementale, cioè non abbiamo più bisogno di migliorare l'esistente. Oggi abbiamo bisogno di un'innovazione radicale, di un cambiamento totale, di un sogno, di pensare a qualcosa che non c'è e che noi vogliamo costruire come noi riteniamo che debba essere costruita. Questa è veramente la sfida che ho accettato. Noi oggi in passato abbiamo pensato che bisognava muovere piccoli passi per raggiungere un obiettivo, oggi non è più così, noi dobbiamo fare un grande salto, dobbiamo saltare per andare in Europa, dobbiamo cambiare tutta l'ingegneria amministrativa di questo territorio, dobbiamo modificare sostanzialmente il modo di essere attraverso regole semplici, non cose complicate. Dobbiamo semplificare il più possibile il modo di funzionare di una pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione, in particolare quella provinciale, deve sapere svolgere un ruolo di regia, di coordinamento, di individuazione delle aree di sviluppo in funzione di quelle che sono le radici, le missioni, i punti di forza dei territori. E questa è la ragione per cui il programma appena preparato, dopo averlo inviato agli altri partiti della coalizione, l'ho inviato a tutti i coordinatori dei nostri circoli. Perché quello non deve essere il programma del candidato presidente, deve essere il programma di tutti quanti noi. Se non ci crediamo, noi riusciamo a dirlo anche agli altri. Se noi siamo convinti che quello che vogliamo, questo grande cambiamento che supera anche tutte le ideologie, che in qualche modo ci mette al centro di questo sviluppo, riusciamo a trasferirlo agli altri. Io ho cercato in vano di incontrarmi con Cesaro per discutere con lui di questo programma, perché io credo che sia giusto che i candidati si confrontino su un programma, non soltanto sul fatto di mettere Berlusconi dietro o non mettere qualche altro. Abbiamo bisogno di dire che cosa offriamo, che cosa vogliamo proporre ai nostri cittadini. e poi bisogna anche saperlo trasferire. Perché chiunque può, diciamo, fare in modo che qualcuno gli scriva un programma, poi bisogna interpretarlo. Bisogna saper portare avanti un programma, bisogna portarlo avanti con una propria storia, con una propria esperienza. La fiducia deve derivare anche dal fatto che qualcuno nella sua vita ha fatto qualcosa e lo ha fatto bene anche se in altri settori. Questo è quello che io voglio fare, questo vorrei portare avanti insieme con voi. Io oggi faccio questo primo incontro con voi, ne farò tanti altri fino al 6 di maggio, ma quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo lavorare porta a porta. perché io non farò una campagna elettorale molto costosa, perché io credo che in un momento di difficoltà del Paese, in un momento in cui tanta gente viene licenziata, in un momento in cui tante persone vanno in cassa integrazione, noi come partito non ci possiamo permettere di fare una campagna elettorale che ci costi milioni di euro. non lo possiamo fare e dobbiamo quindi usare tecnologie diverse, dobbiamo lavorare con i più giovani attraverso i sistemi di Internet, attraverso Facebook, attraverso altri sistemi di comunicazione, perché questa volta devono essere i giovani a dire ai genitori papà vota per questo, perché questa è una brava cosa. e anche la nostra campagna elettorale sarà una sperimentazione, sarà un'innovazione, perché io parlerò con voi, faremo forse un grande incontro anche con i biesponenti politici romani, ma quello che faremo, faremo il porta a porta. Andremo in giro, prenderemo un caffè, discuteremo del programma, verrò a discutere nei circoli di eventuale modifica del programma, perché noi questo lo dobbiamo fare insieme, perché quello che ci aspetta è una lotta difficile, ma sulla quale già stiamo andando bene, i dati cambiano, cambiano velocemente, da quando io ho vinto queste primarie, già i numeri sono cambiati, poi la gente ci vede, ci guarda in faccia, i napoletani sono più i napoletani per bene, che quelli non per bene, e quindi noi abbiamo fiducia che tutti quelli per bene, anche quelli che sono indecisi, anche quelli che forse hanno una tendenza verso Berlusconi, si rendono conto che qui sul territorio c'è bisogno di qualcosa di diverso, ed è su questo che noi ci dobbiamo muovere tutti assieme. Io credo che noi, come vedrete dal programma, non possiamo dimenticare i punti di debolezza del nostro territorio, e quindi abbiamo bisogno fortemente di battere sulla legalità, perché la legalità, la sicurezza, sono dei prerequisiti per lo sviluppo, e lo dobbiamo guardare come una necessità del territorio per permettere l'arrivo in questo nostro territorio di nuove aziende, perché noi abbiamo bisogno di posti di lavoro, abbiamo bisogno di far rientrare i giovani qui, ma non perché devono rientrare perché c'è il sole, ma perché devono trovare un posto di lavoro adeguato, e per fare questo dobbiamo lavorare insieme, comuni, tutti comuni, la provincia e la regione, con un unico obiettivo, quello di creare posti di lavoro sul territorio, e lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare perché oggi ci serve per i prossimi anni, quando finirà la crisi, e quando finirà la crisi chi ha saputo organizzarsi sarà quello che avrà il maggiore successo nel mondo, e in questo la cultura gioca un ruolo importante. La cultura oggi è l'unico modo per poter avere un posto di lavoro certo, e quindi le scuole devono funzionare bene, e quindi tutto il sistema di formazione deve funzionare, e tutti gli interventi che dobbiamo fare devono minare a un solo punto preciso, quello di una migliore visibilità e di una possibilità per tutti i nostri giovani di lavorare. Noi oggi non dobbiamo preoccupare.